E' lo schiuso, Odenai, Silsab di Goddard, Perugia! Di Treviso! E' il secondo arbitro, Andrea Pueger di Padua! Il terzo arbitro di questa sfida è Matteo Mannarino di Roma, Mazzone! Il numero è il numero 10, Genia Crevendico. In banchine, la croce, Andrea Pueger, Odenai, numero 13! Libero, numero 13, Max Coracci! Il numero 13, Genia Crevendico! 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 . . . Sì, voi vincete, però già, svegliandolo. Pone il segno da seconda linea con Maria Elena Piglia. Buono modena, fermata con l'Università. 17-23. Buono modena, fermata con l'Università. Buono modena, fermata con l'Università. Buono modena, fermata con l'Università. Vieni, vieni. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.